Faro di montagna, figura di carità e preghiera, il pre di Ba, Don Francesco Brignoli. A 75 anni dalla sua morte è ancora ricordato e pregato in Alta Valle e nel Bresciano, parroco dei Banni di Ardesio dal 1890 al 1934. Per ben 43 anni è stato meta di numerosi pellegrini. All'inizio della settimana, costellato da solenni celebrazioni, un gruppo di persone è partito dal paese natale, Peia, per raggiungere a piedi il piccolo borgo di montagna. Don Giolivo Facchinetti, parroco del paese della Val Gandino, è alla guida del piccolo ma affiatato gruppo. Come mai un pellegrinaggio verso Ardesio per il pre di Ba? Perché il pre di Ba è nativo di Peia e abbiamo voluto in qualche modo, in maniera semplice, ripercorrere il cammino, sia il suo cammino da quando da Peia è andato a Banni e più volte tornava a Peia e perciò faceva questo viaggio, sia il cammino di tante persone, di tanti paesi, ma anche di Peia, che andavano su da lui a chiedere qualche benedizione, qualche aiuto e una parola di incoraggiamento. In quanti siete questa mattina? Siamo in una decina, così, contate semplicità, il resto della truppa salirà oggi pomeriggio, perché alle quattro e mezzo andremo a dire rosario al cimitero sulla tomba di Don Francesco e poi alle cinque celebreremo la messa. Nei prossimi giorni sarà invece la comunità dei Banni di Ardesio da arrivare a Peia per un piccolo pellegrinaggio. Sì, è lunedì accompagnati dal parroco Don Vittorio Rossi, che tra l'altro è stato curato un anno proprio lì a Peia per aiutare il vecchio parroco. Ecco, scenderà a Peia a visitare la chiesa del battesimo, la casa natale dove lui è stato battezzato e dove ha celebrato la prima messa e anche nella chiesetta della Madonna delle Grazie di cui lui era tanto devoto. Siamo partiti alle sette da Peia, dalla parrocchiale, dopo una breve preghiera, 7.30 alle piscine, 8 eravamo alla chiesa di Casnigo, 8.20 eravamo in Summit, 8.45 al Ponte del Costone, adesso 9.30, siamo qua a Ponte Selva. Arrivo previsto per le? Arrivo previsto era per le 11.30, ma di questo passo rivedremo molto prima.